Carlo parliamo di cose serie, la scossa quando possiamo vedere... No, io pur di non giocare, pur di non giocare, ho fatto a cambio con Frizzi che è il conduttore storico della partita del cuore e gli ho detto ti do un po' di eredità, tu mi fai condurre la partita del cuore perché io notoriamente non so giocare a palloni, quando giocavo alla casina su a Montughi era una schiappa per giocare dovevo portare il pallone io e poi non mi facevano mai giocare per questo ho iniziato a bordo campo a fare le radio cronache, le radio e poi è stata la mia fortuna però siccome gioco malissimo con Frizzi ho detto tu mi dai la partita del cuore, ti do l'eredità e così non gioco però ho l'onore di rappresentare Firenze e raccontare questa meravigliosa partita per le telecamere di Rai 1 quindi la cosa importante è anche l'onore di festeggiare questi 20 anni di emergency perché l'incasso va tutto a questa straordinaria associazione che Gino Strada ha creato 20 anni fa